Carissimi, tra qualche giorno celebraremo la festa di Nostra Signora di Lourdes e il santuario si prepara ad essa mediante una novena. È un momento semplice, uno dei gesti belli della pietà popolare, ma significativo per meglio entrare nello spirito del messaggio di Lourdes. La bella Signora, la Vergine Maria, apparendo qui alla grotta di Massabiel, ha voluto educare Bernadette e noi tutti alla bellezza e alla profondità della buona e bella notizia del Vangelo. Lungo il corso delle diciotto apparizioni, la presenza all'inizio curiosi e via via sempre di più persone, dimostra il desiderio di una relazione. Una relazione con il Signore più intensa e rassicurante. È veramente impressionante come la cronaca di allora lo registra l'afflusso di tanti alla ricerca di un segno e di un sostegno dal cielo per affrontare la cruda e faticosa realtà della vita. E Maria, nell'incontro con la giovane Bernadette, non si è sottratta a questa sete di felicità e di pace interiore. In occasione della tredicesima apparizione, il 2 marzo 1858, la bella Signora dice a Bernadette, andati a dire ai sacerdoti, questa richiesta della Vergine Immacolata, costituisce il tema di riflessione per tutti i pellegrini per questo anno 2022. Ci accompagnerà lungo tutta la stagione dei pellegrinaggi. Bernadette, in occasione della terza apparizione, aveva ricevuto e accolto l'invito della Signora. Volete farmi la grazia di venire qui per 15 giorni? Inoltre aveva detto a Bernadette, andate alla sorgente e lavatevi. E Bernadette obbedisce e vi si reca non senza difficoltà. A partire da quel comando della Vergine all'Urd si svilupperà una pastorale della purificazione. Così il dialogo personale, intimo e pieno di delicatezza, di tenerezza e nello stesso tempo esigente, sviluppatosi attraverso i diversi incontri, si apre in occasione della tredicesima apparizione. Alla realtà di tutta la Chiesa e di tutta l'umanità. Bernadette riceve per la prima volta nella sua vita una missione che riguarda altre persone. Andate a dire ai sacerdoti, la presenza di Maria Massabiel non è stata un'esperienza esclusiva per Bernadette, ma le è stato chiesto di coinvolgere la realtà di tutta la Chiesa, rappresentata in quel caso dal parroco di Lourdes, l'abbè Pairamalla. Da quel momento siamo tutti coinvolti. Da allora la Chiesa si è giustamente occupata dei fatti di Lourdes e soprattutto delle parole di Maria. Un invito alla conversione, all'incontro rasserenante e filiale con lei. Da quel comando ne è scaturita tutta la ricchezza del nostro venire qui a Massabiel, in questa grotta, per trovare rifugio sicuro e protezione materna. Qui possiamo vivere un'esperienza di Chiesa, incontrando ogni genere di persone, soprattutto gli ammalati. Andate all'Urd, è come se ancora oggi Maria ce lo ripetesse. Ora che le restrizioni dovute alla pandemia si stanno gradualmente allentando, l'invito è nuovamente rinnovato. Venite, tornate a Lourdes. Il santuario è nuovamente pronto ad accogliervi e ad accompagnarvi. Negli ultimi due anni i pellegrini non sono mancati. Tuttavia tante persone mi hanno espresso la loro grande nostalgia di Lourdes ed intenso il desiderio di poter sostare in preghiera qui davanti a questa grotta, come ha fatto Bernadette durante i suoi incontri con la bella Signora. Carissimi sacerdoti, consacrati, giovani, adulti, anziani, ammalati, siamo pronti, pronti ad accogliervi qui in questo luogo baciato dal cielo ed insieme a pregare con voi, sperimentando la dolce e amorevole presenza di Maria. Lei sempre ci attende. Ci diamo appuntamento allora per l'11 febbraio, ma non solo. Buon pellegrinaggio a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.